Ben tornati in studio, ci spostiamo ora sulla cronaca di Roma, le notizie che riguardano la capitale, l'inserto del Corriere della Sera e da qui la città prigioniera dei Pullman a centro pagina. Ne sono entrati quasi 70 mila in otto mesi, da Monti al Colosseo, inesistenti i controlli, la mobilità insostenibile, non sono stati rispettati finora dal Campidoglio, gli impegni presi nella campagna elettorale. 284 ingressi ogni giorno, 68 mila, 328 solo negli ultimi otto mesi. I Pullman sono un problema per la mobilità e l'ambiente in una città come Roma, maglia nera in Europa con 71 auto ogni 100 abitanti. Tutto il centro storico della città è assediato dai torpedoni in via di San Gregorio che il ministro alle infrastrutture Graziano Del Rio ha auspicato diventasse presto pedonale. I torpedoni rimangono con il motore acceso e qui vediamo appunto una foto a centro pagina e poi la rivolta dei residenti via i Pullman ma anche le auto dal Colle Oppio. I residenti sono scesi sul piede di guerra, bisogna mettere subito un cartello di divieto per tutti i veicoli anche con la rimozione, chiede a gran voce l'associazione Progetto Celio. E poi il pasticcio McDonald's, i permessi bloccati a Borgopio, il municipio frena i lavori del fast food McDonald's a Borgopio, primo stop e intoppi amministrativi che rischiano di rallentare i lavori. Meno di una settimana fa, il 12 ottobre, lo sportello attività produttive del primo municipio scrive alla McDonald's Development Italy, oggetto della comunicazione, l'avvio del procedimento di Niego. Così motivato, l'istanza non può essere accolta, chiariscono dagli uffici di via trionfale in quanto carente di alcune attestazioni da integrare. Poi piazza Cavour, Bulli e Politica, i Giardini Neri e ancora il concorso infinito, trascritto e orale, due figli e un matrimonio andato a Monte, l'odissea di Cristina, un'aspirante vigilessa. Sei anni e mezzo di attesa per un concorso, ho fatto in tempo a fare due figli, mi sono separata, la mia vita è cambiata e questa selezione infinita paradossalmente resta la mia unica certezza. Cristina Giorgi ha 35 anni, oggi ne aveva 28, quando nel 2010 presentò la domanda per uno dei 300 posti da istruttore dei vigili urbani. Un concorso che tra commissioni revocate, nuove correzioni, ricorsi e decisioni del Tare si trascina ormai dal 2010. Hanno giocato con le nostre vite, io sono disoccupata, ho finito i risparmi, studio di notte e faccio i salti mortali per non far mancare nulla ai miei figli. Ora dopo la decisione della Raggi si ripartirà tutti dagli orali. Io alla divisa ci tengo ma non vedo l'ora che questa storia finisca per iniziare davvero a vivere. E ancora poi in taglio basso, scovando tesori nei camion dei cingalesi, la storia di Giuseppe Garrera, il collezionista notturno che ha ritrovato inediti di Pasolini. Questa è la storia di Giuseppe Garrera, appunto un insegnante in un liceo di giorno e cercatore di tesori cartacei di notte o all'alba. Tesori dall'archivio di Giovanni Macchia, foto inedite di Pasolini che lui ritrova un po' ovunque ma soprattutto rovistando nella sua caverna di Alibaba. I camion dei cingalesi che a porta a portese aspettano di scaricare e svuotano gli appartamenti, spiega, sono loro i nuovi cenciaioli. E dopo questa notizia ci spostiamo sul web dove ci sono ulteriori casi di cronaca accaduti a Roma. C'è stata una rissa in piazza Cavour, parla la ragazza all'origine della lite, panna e sputi in faccia, poi è scoppiato l'inferno. Ripete una sola cosa, io a Cavour non ci metterò mai più piede, quelli torneranno a vendicarsi, ne sono sicura, cercavano guai, insultavano noi ragazze come se fossimo delle bestie. Ci diceva che cosa volete ragazzi, noi facciamo come ci pare e facevano veramente paura. Queste le parole di Virginia, un nome di fantasia, una quindicenne che era appunto in piazza Cavour durante la rissa. E poi a Roma, sempre una tassista bloccata e rapinata, poteva violentarmi, non guiderò più, dammi soldi o ti sparo e ti ammazzo. Lara, 28 anni, è alla guida del taxi di suo padre, l'ha sostituito perché il genitore la notte prima si era sentito poco bene. Dietro di lei un uomo la tiene sottotiro, Lara riesce a vederlo dallo specchietto. Sono le 19 di domenica, a zona Casetta Mattei, ci sono alcune auto che sfilano accanto al taxi, ma la cintura di sicurezza stetta intorno al collo della ragazza le impedisce qualsiasi movimento. E ancora a Roma, parla la turista stuprata, a Colleoppio, voleva uccidermi. Il ricordo di quella terribile notte mi tormenta, non metterò mai più piede a Roma. A una turista non dovrebbero accadere cose del genere, non bisogna fidarsi di nessuno. Uno rosi, questo il nome di fantasia, oggi tornerà a casa sua in Australia, abbraccerà la figlia e si stringerà all'affetto degli amici più cari. E ancora il bimbo morto a Maccarese, c'è un aggiornamento, la svolta nelle indagini, sarebbe stato spinto in acqua da un amichetto. Gli amichetti potrebbero aver portato il piccolo Alessandro sul canale di via Campo Salino e uno di loro potrebbe averlo involontariamente spinto in acqua. Si è aperto un nuovo scenario nelle ultime ore sul giallo del bambino di 11 anni, trovato morto in un canale di scolo a Maccarese. L'ipotesi investigativa su cui stanno lavorando gli inquirenti è emersa dopo che nei giorni scorsi sono stati ascoltati i compagni di gioco del piccolo Alessandro. E poi ci spostiamo ad Ostia, caccia a banda di piromani, hanno dato fuoco a camper e baracca di senza tetto. Hanno bruciato contemporaneamente un camper e una baracca, modesti giacigli per senza tetto. E avrebbero proseguito con un terzo alloggio di fortuna se non avessero sentito le voci di tre uomini al suo interno. E caccia ai ragazzi di età tra i 16 e i 20 anni che ieri, poco dopo le 11, sono fortemente sospettati di aver appiccato il fuoco a due dimore usate da stranieri in via De Rostri. E un altro incendio alla Barbuta, scoppia appunto un incendio al Campo Nomadi, alta colonna di fumo, problemi al traffico sul raccordo. Un altro vasto incendio nel Campo Nomadi della Barbuta, Ciampino, una grossa colonna di fumo nero sprigionatasi da alcuni rifiuti, si è alzata ed è visibile dalla capitale e dai castelli romani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Marino e un autobotte dei pompieri di Roma. Problemi e disagi si stanno verificando al traffico sul raccordo e dalla zona di via Appianuova. Il rogo di origine dolosa è divampato intorno alle 19. I vigili del fuoco sono a lavoro con autorespiratori e alcuni mezzi. Qui vediamo appunto le immagini e ci spostiamo ancora su e nuovamente sul quotidiano della Repubblica, sull'inserto che riguarda appunto la capitale. Qui è su esse parcheggiatori, regno degli abusivi, noi vigili impotenti. Dalla mancia alla vera estorsione, viaggio nella sosta illegale, dai disperati senza lavoro, al racket della mala, dagli ospedali alle piazze della Movida Romana, dal cimitero allo zoo, dal lungotevere al via Litoranea, dal tribunale alla Basilica di San Pietro. La carica dei parcheggiatori abusivi non conosce confini, non c'è un'area ormai che non sia governata da un esercito di nullatenenti pronti a chiedere soldi in cambio di un servizio in più, delle volte inesistente e in alcuni casi collaborativo. Nulla però che giustifichi la richiesta di denaro. Tuttavia, consegnare spicci ormai è vissuto come un obbligo per gli automobilisti romani sfiancati dal traffico e dalla ricerca spasmodica dei parcheggi, che a Roma non ci sono. Ma quando qualcuno dice no, scattano violenze e ritorsioni, autorigate o spintoni, fino da coltellamenti, come quello accaduto sabato scorso ai Parioli. Il problema vero è quello che il guardamacchine abusivo non è un reato, a meno che non ci sia una minaccia. E a Roma è uno dei tanti fenomeni illegali, tollerati o mal tollerati, a seconda dei casi. Tollerato e difficilissimo da contrastare. Quando i vigili intervengono, gli abusivi vanno incontro a una sanzione amministrativa. E ancora all'Umberto I ci spostiamo, il pediatra non apre. Mancano cinque infermieri ristrutturato e ancora mai aperto. Il reparto lattanti della clinica di pediatria del Policlinico Umberto I è stato chiuso per essere riqualificato con i fondi per il giubileo. Le chiavi a fine aprile sono state riconsegnate, lavori finiti. Ma dopo oltre cinque mesi le porte del reparto di degenze per i neonati sono ancora serrate. Perché ci sarebbero delle carenze di personale. Il Tribunale del Malato si è attivato e già oggi invierà una lettera alla Direzione Sanitaria per capire come mai la struttura non è ancora stata aperta. La preoccupazione è che senza i dieci posti letto per i piccolissimi e con l'arrivo dell'influenza stagionale possa andare in sofferenza il pronto soccorso pediatrico. E poi a centropagina la scuola che non va qui una foto via alla prima occupazione senza i professori lezioni part time. L'autunno caldo quest'anno parte dall'euro. Ieri mattina un gruppo di studenti dell'Istituto Tecnico e Commerciale Vincenzo Arangio Ruiz ha occupato la scuola e sull'edificio della sede centrale in Viale Africa ha preso a sventolare uno striscione con su scritto un proverbio cinese. L'unità di un popolo sta a trasformare l'argilla in oro, il Ruiz occupato. E vediamo qui appunto una foto. E poi pennellibri in regalo ai ragazzi migranti in una elementare. I giovani del centro di accoglienza in cambio portano barche di carta. E qui vediamo una foto. E in taglio basso poi ci spostiamo sul Campidoglio. Raggi sbloccate 485 assunzioni. Oggi l'incontro con il Governo. E questa era l'ultima notizia per oggi. Il tempo a nostra disposizione è terminato. Vi ringraziamo di essere stati con noi e vi rimandiamo ai prossimi appuntamenti. Arrivederci.